Neve al nord, pioggia e vento al sud. Da venerdì un brusco abbassamento delle temperature per tutto il fine settimana con nevicate previste per il versante occidentale del nord Italia, dal Piemonte alla Toscana, temporali e gelate nel resto della penisola. In mal tempo il freddo dovrebbe durare dal primo di dicembre per tutta la prima settimana del mese per colpa di una sacca di freddo che si è creata tra il Mar Ligure e la Corsica Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire da venerdì mattina nevicate diffuse su Piemonte ed Emilia Romagna centro-occidentale e, in estensione nel corso della mattinata, a Liguria e Lombardia centro-occidentale, con apporti al suolo moderati o localmente abbondanti. Sulla Toscana settentrionale sono attese nevicate al di sopra dei 400-600 metri con apporti al suolo da deboli a moderati.Stato di allerta dall'Arpa a Veneto per tutta la regione previste gelate sulle zone di pianura per la notte tra giovedì e venerdì per un forte calo delle temperature.In Liguria è stato emessa un'allerta arancione per Valle Stura e dentro terra Savonese fino alla Val Bormida, Valle Scrivia, Val Daveto, Val Trebbia, sulla costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno. Allerta gialla, invece, lungo la costa fino a Noli, nell'intera provincia di Imperia, nella Valle del Centa dove sono attesi anche venti di burrasca con raffiche fino a 80-90 km orari. La nostra città imbiancata è uno spettacolo suggestivo, tuttavia la Nive è anche causa di disagi, che però si possono minimizzare con azioni preventive, che ovviamente stiamo attivando scrive la sindaca di Torino, Chiara Appendino su Facebook precisando che tutti gli organi competenti sono già allertati e pronti ad intervenire. Allerta gialla, invece, sul settore meridionale costiero della Campania, sulla Basilicata, sulla Puglia meridionale, sulla Calabria e sulla Sicilia. A Vallo di Diano, nel Salernitano, è già emergenza per le forti piogge cadute nelle ultime ore. Il fiume Tanagro ha rotto gli argini in più punti a Montesano sulla Marcellana, in via Pantanelle e Tempa-San Pietro. Le acque fluviali hanno invaso diversi terreni ed anche il cantiere Terna, creando notevoli danni.Accuazioni e temporali che causano frane, smottamenti e allagamenti tanto che, rileva col diretti, nel Sud Italia, nel solo mese di novembre, è caduta il 44% di pioggia in più rispetto alla media con gravi danni per il terreno che non riesce più ad assorbire l'acqua.